La polizia ha eseguito un'importante operazione in provincia di Crotone e in altre regioni italiane, arrestando 44 persone accusate di far parte di un'associazione criminale dedita al traffico di droga e armi. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal GIP di Catanzaro su richiesta della direzione distrettuale antimafia. Tra gli arrestati, per 40 è stata disposta la custodia cautelare in carcere, mentre per 4 sono stati concessi gli arresti domiciliari. Ad altri 5 indagati è stato notificato l'obbligo di firma. Le indagini, coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Polizia e condotte dalla squadra mobile Pitagorica, hanno permesso di raccogliere significativi elementi indiziari sull'esistenza di un'organizzazione criminale armata. Secondo quanto riportato dalla Questura, il gruppo criminale sarebbe stato guidato da soggetti di spicco della città di Crotone, già noti alle forze dell'ordine per precedenti reati. L'operazione rappresenta un duro colpo per il controllo del traffico di stupefacenti e di armi nella zona, frutto di una lunga e articolata attività investigativa che ha messo in luce la struttura e le modalità operative dell'organizzazione.